E poi è sparito. Va via! Voglio che mi porti nel posto che ho visto quando ho toccato questa. Dove l'hai presa? Lo so che sei stato là. Chi sei tu, ragazzina? Ti hanno seguita fin qui? Chi? John Francis Walker sta offrendo a rifugio una fuggitiva. La lasci in nostra custodia. Ha un minuto per obbedire. Grazie. Non ringraziarmi ancora. Oh, che cosa? Presto! Andiamo! Oh, cavolo! Entra! Ti pare una buona idea! Non hai ancora visto niente. Vieniti forte! Tu volevi vedere Tomorrowland. È davanti a te. No. But eh! Dovevo... Tanti partecipoli! Quindi sono estores di trasformazione! È davanti!